benvenuti ciao elena quando la nostra cliente amica è in gamba si è subito più ben predisposti per fare una bella sessione divertente oggi come sempre conto da 5 a 1 e ti connetti a odette la nostra amica 5 4 3 2 3 6 7 8 9 9 10 10 10 11 13 14 14 15 15 15 15 15 15 dimmi come la vedi allora e lei è su una barca remi lei davanti che rema dietro ci sono due bimbi penso dei suoi figli e stare mando in questo fiume un po' paludoso ok ti dà l'autorizzazione se fiume paludoso frequenza vibrazione 136 miliardi brivido per centuali di consapevolezza 138 psp psp 62 38 vite precedenti 1467 cervello 9.4 9.4 in quante vite ho detto sia uomo che donna non ci importa è stata bianca e in quante di colore 300 300 bianca no il colore 1100 bianca più o meno poi è esatto sì 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 diciamo non di colore diciamo ok perché ho detto è di colore del continente africano posso dirlo no sì ok e quindi già questo da un'idea della relatività no dell'esperienza bene come si presenta a te energeticamente la prima parola l'espressione che mi è venuta per descriverla energeticamente multitasking è come se lei fosse in grado di estrarre da un da un archivio di vibrazioni di energie viene di tipo di energie energia adatta per quel momento della sua vita non so come dire va periodi proprio no non è rispetto a una persona ma rispetto al al circostanze se ha la circostanza principale di quel momento della sua vita tipo quando era piccola in relazione a chi si prendeva cura di lei e poi man mano la vedo proprio in relazione ai sui partner dei momenti anche in relazione figli no quindi ci sono tanti ho detto più che tante ho detto c'è la ps che usa partiti ho detto diverse è come se lei riuscisse a varia a cambia avesse più campi emozionali colpi emozionali e anche la pie cosa anche la pie è come se varia anche la sua pie interessante quanti sono questi corpi emozionali 10 bene 10 p e 10 p e si no vabbè a 10 p e per me possono bastare scusa una canzone ho detto era dieci ragazze per me possono bastare ma forse la conosce la conosce ciao dette ciao proprio detto ciao avanti ma che più avanti non si può chiamiamole 10 p e scusa ci ci sono conosciamo le mi viene questo sospetto queste dcp e vengono in qualche modo collegate sono in qualche modo collegate a dieci vite precedenti di odette ma che essere no non sto confrontando ma in realtà no è come se lei avesse fatto è come se quando è nata la ps quando è nata si ricordasse delle esperienze quindi ha bisogno di più di più risorse è sì perché per venire non è sufficiente a situazioni sempre diverse quindi se questa p e ps che femminile il concetto archetipico del femminile circondata da dieci uomini nel senso nel senso buono ovviamente da dcp e da 10 spirito maschile che danno la forza di resiste nella matrix in varie bravi può essere esattamente come la ps come vedi la p e ma la ps lei la sua è una una sfera vedo questa sfera di energia come se fosse sai quelle palle che se che hanno la scossa che quando tocchi si muoverà ecco come se fosse così azzurra interna la ps e poi a queste le pie sono come se fossero delle reti intorno che lei può intercambiare dei capellini no tutta proprio tutto è tutto intorno al corpo come si chiama la ps che ha un nome abbiamo visto primula come si chiama il progetto relativo a ho detto la prima cosa che mi è venuta è intercambiabilità chiamiamo c'è una parte connessa a tele a delle art action che non c'entra con questa parte dove lei cambia le vie che si chiama interconnessione adesso vediamo chiamiamo nel cinema un po di persone i figli e la figlia vediamo se arrivano sì dove si siedono davanti c'è uno dei due che più interessato dell'altro altra 1 la figlia più interessata il compagno attuale se lo vogliamo chiamare così perché non si è ben capito se è un compagno o un amico o un padre di un figlio e adesso un amico ma io chiamerei anche i tuoi genitori sono vivi no detto sì sì i genitori tutti i tuoi fratelli e anche il primo compagno e vengono tutti sì chi è più interessato meno interessato e se gente tutti i suoi fratelli sono in fondo per l'ultima infine del cinema i fratelli se genitori e anche i genitori in fondo poi ci sono c'è il primo compagno che appena appena dopo i suoi fratelli poi c'è l'altro compagno che lo vedo seduto di fianco al suo attuale compagno in terza fila va bene tutti sono qua per vedere imparare non per sfottere scocciati spiare gli altri abbiamo avuto alcuni che sono venuti nel cinema il cinema lì di fenestra in automatico la poltrona li proietta fuori dal cinema se stanno a essere se ne vanno se non sono più interessati si iniziano a fare filmini col telefonino metaforicamente parlando cioè si iniziano a spiare a cercare di capire delle informazioni a criticare vicino mai fatto per avere informazioni se non ti interessano l'attene no tutto qua entità eteriche che a un primo avviso chiunque esse siano sono le cape ti ho detto ma che ti posso dire ho detto sono i tuoi servi perché come in alto come se tu questi poveri scemi di programmi saranno mai fai entrare i programmi che entrino i software bella questa se ci piace le loro scatoline di cartone rinnova mi aggiornami no dei nantaggio nunca di niente cancello cestino vediamo lì i software eterici allora c'è hanno presenti c'è un leonide e c'è un falco uniforme legato ad odino poi c'è c'era perché adesso non c'è più c'era nei primi anni della sua vita fino a un certo punto questo io direi demone ma è proprio tipico del posto da cui viene lei quasi legato a alla terra prima volta che mi capita però è come se fosse legato alla terra e al femminile e all'età quindi quello che vedo io è che praticamente interferisce sul 90 per cento delle delle bambine e ragazze di sesso femminile che vivono lì che sono originari di lì no anche che vivono lì c'è che se non fossero originari di lì ma se stanno lì possono avere questa interferenza me lo spieghi dimmi dimmi se c'è questa interferenza che interferisce le bambine e ragazzine di quel luogo lì è legato tale o eterica ama eterica viene tiene allora la maggior parte c'è del secondo universo a una parte vabbè secondo universo mondo demoni l'andia ok nasce dalla cultura africana sì 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 più o meno qualche aspetto a allora è tipo tipo satana ma con i disegni e i colori tipici delle maschere africane ha un nome tappa capa con la cappa ma che poi chi c'è faccia falconiforme collegato a odino e un leonide sì sì no no poi inoltre altri edl sì 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 ci sono due uomini del tempo che allora non li ho visti subito lì perché come se come se si fossero messi dietro no però poi quando io ho guardato l'entità mentale ho visto i collegamenti poi ci sono 3 dl e c'è un'entità mentale di livello 4 e una di livello 3 ok vediamo lenti ipo i software mentali i software mentali hanno software 3 e sotto e 4 diciamo d'altra allora 3 allora ecco non riuscivo bene a capire cosa facesse se chiaro questa entità mentale 3 è quella che di contrasta le sue pie cioè la capacità della sua ps di utilizzare una pie adatta per quel momento è bloccata da questa entità mentale di livello 3 perché è come se ha per ogni p e mettesse tipo una gabbia intorno alla p e a quella particolare p e quindi ho detto la utilizza è la vedo che parte sulla linea a ideale per diciamo per per interagire con l'esterno in quel momento e c'è questa entità mentale che le mette proprio come se vedo come se scendesse tipo un cancello dove questo cancello pone nella nella testa di odette una serie di domande no tipo sono adatta per questa cosa ce la farò queste cose qua però proprio che a seconda della a livello energetico a seconda della pie che ho detto usa c'è un tipo un cancello diverso ecco messo da questa entità 4 a 4 collabora che collabora con leonide per quanto riguarda la parte economica a livello livello mentale è come se allora leonide non le crea sempre delle spese improvvise ok l'entità mentale di livello 4 è quella che è come se le dicesse che lei non può avere di più lei non può è come se la sminuisse provo a spiegartela concretamente perché in eterico io vedo che le manda manda dei pensieri che la frena dall'alto se le potesse andare in alto come un razzo e arriva l'entità metà di livello 4 e le mette un piano dove il razzo non si può neanche muovere non riesco a descriverti l'austacola e la frena in vari altri motivi esiste un'entità mentale collettiva a cui ho detto è collegata e una a cui tappa capa è collegato ma ho detto non è collegata in generale si potrebbe collegare tappa capa nel senso che in alcune bambine ragazze vedo che il l'idea che siano loro responsabili per questo aggancio ok diventa vero quindi c'è questa mentale che racconta queste bimbe a queste ragazze che è la loro responsabilità per cui questi uomini si avvicinano ok ma io ho detto visto che in realtà non c'è questa cosa c'è infatti il fatto che lei abbia sempre detto che le facevano certe cose di cariche lei non si è collegata a questa entità mentale mentre spesso succede che le bambine o le ragazze che non lo dicano perché pensano di essere responsabili loro ecco però esiste questa entità mentale sì ma come si chiama questa entità mentale collettiva mi dice cerchio umano cioè cerchio umano vabbè la trovo anche abbastanza ridicola come cosa quindi mettiamo subito intorno a cerchio umano una bella rete di ad eternum e via e andiamo dritti cose più interessanti perché sì ho capito perché cerchio ma analizziamo le abduction ci sono no abbiamo detto che ci sono c'è un progetto da abduction con un sotto come sottoprogetto di inter scambiabilità intercambiabilità che si chiama interconnessione lei ha visto non è un sogno non sa bene come descrive l'ho più fatto ha visto una d'action entità cose con le seringone da vari lavori nella sua zona genitale da quel giorno ha avuto il ciclo bloccato e quando o semi bloccato quando poi arrivava il momento dolore e non usciva nulla quando ha prenotato è tutto tornato normale il cistito varica e basta dopo l'altro lo vediamo dopo la città varica è proprio provocata da questo spero da questo progetto che facciamo durante le abduction prelevavano i suoi ovuli e poi cercavano di tt metterli in cloni con sfermato dai presi da altri altri uomini sempre in abduction e rimettevano in questi cloni di varie persone c'è i cloni non erano per forza i suoi interconnessione perché rischiavano un po le cose a caso cioè a casa non a caso magari loro con un certo certa logica ma come se c'è in un clone spero otto zoon uovulo di persone diverse che non c'entrano niente col clone la sua ps reagiva a queste abduction quindi il fatto di essere bloccata reagiva se praticamente il sintomo era la reazione della ps a queste invasioni queste siringhe perché ho visto che poi li avevano messo anche tipo degli impianti e come se una specie li avevano messo nelle ovaie delle specie di come se fossero delle incubatrici di ovuli proprio delle sfere di impianti e la ps reagiva a questi impianti e quindi le bloccava anche proprio il ciclo perché dopo la prenotazione è tutto tornato normale allora la ps allora la ps ha portato è proprio quello che voleva fare portare odette alla consapevolezza di più consapevole verso se stessa e quindi pian piano la portata a seguirci e nel momento in cui ha prenotato c'è proprio stato uno scatto e la ps è riuscita a evitare le abduction più o meno da poco dopo che lei ha visto una sua abduction dopo qualche mese causa causa superiore del dolore al petto quando respira ovviamente ha fatto esami medici nel risultato fuori saltato fuori niente vedo un po legata al cambio della sua piede il suo corpo emozionale quasi come è quasi come se ci fosse un gancio faccio descriverlo qua vedo che è quasi come se lì ci fosse un lancio della sua pie quale del cangio no tutte le volte che cambia a lì sente il l'interscambio esatto quando se ne sostituisce una perché la circostanza è più adatta a quella la 2 piuttosto che la 7 piuttosto se la 10 molto strana molto insolita questa situazione impianti ci sono allora c'è questo impianto mentale che è tipo una 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 barra metallica piatta nella testa in questa direzione che utilizzato dall'entità mentale di livello 4 e poi vabbè ci sono questi impianti parmene le mani e sotto le piante dei piedi ancora sono residui delle abduction che però non ne fanno più basta questi costanti eliminati dalla quelli che aveva nelle ovaie sono state eliminati dalla ps che sta già andando avanti ok causa sotterica dei problemi della instabilità economica più che dei problemi della continua ricerca di una stabilità economica il leonide insieme all'entità mentale di livello 4 ok e lei perché ha scelto la ps perché ha scelto questa esperienza allora ho già visto prima è come se nel momento in cui scegli di nascere in alcuni posti il mondo prendi nella nascita in quel posto alcune esperienze come se prendessi un pacchetto di esperienze e dove dove ha scelto di nascere lecce anche l'esperienza c'era anche l'esperienza di essere della ristrettezza dell'instabilità economica ma che può assolutamente chiudere anche in breve senza non è che deve portare alla fine alla morte io posso dire ho detto il posto da cui vieni o no ma io di no si possono sono bene parliamo di capoverde un insieme di dieci isole a dieci e dieci isole di cpa può essere che storia può essere che in qualche modo qual è la storia diceva che erano tutte diverse che avevano ognuno una caratteristica può essere che ci sia vabbè vediamo solo una cosa lì sotto cosa c'è energy lines nessuna energy line si chiamano lì ma di capoverde è insolito è particolare ci sono dei venti particolari c'è tutta una situazione che crea una specie di paradiso però si vive male però non c'è povertà possibile però se arriva qualcuno è qualcuno di esterno che in qualche modo trova il modo di senza investire in generale ovviamente questo è in generale a livello esoterico lì sotto cosa c'è allora come se fosse come se ci fosse il vuoto intorno alle isole per chilometri 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 sotto e le isole fossero attaccate da come se fossero delle radici di terra attaccate al nucleo in fondo il fondo in centro della terra si è riuscita a descrivere sì sì è questo che significa che c'è una energia precaria una forte energia nessuna energia è come se non è come se fosse un una diramazione della terra che che ha cercato la luce lo so come dire dal nucleo ha cercato la luce è arrivata in superficie è una cosa strana perché non la vedo unita al resto ecco come il resto al resto della terra della terra mondo un'isola felice un'area felice a sé un'area se un mondo sa delle particolari esatto con delle caratteristiche a sé particolari diverso da tutto assomiglia alle canarie no no va bene mettiamo un gigantesco ad eternum lì sotto tutte le isole e uno per ogni isola quindi 11 effetti allora diventa tutto energia di ad eternum è come se ci fosse un terremoto da quanto vibra quasi anche alle radici di questo prorunamento come se tremasse tutto è come se scuotesse tutta l'energia in quel posto quello che posso dire è che prima di metterli ad eternum è come se l'energia fosse disordinata come se ci fossero dei pezzi del puzzle mischiati e non si trovava la figura ok adesso con la scossa degli ad eternum è come se facendo così sai come se fosse un setaccio che rimangono solo delle cose che devono rimanere no quindi come se scuotendo tutto si e tutti i pezzi tornassero al loro posto ok causa esoterica delle difficoltà in ambito emozionale e quindi la prima è la seconda relazione in generale diciamo hanno avuto interventi degli uomini del tempo si delusioni essere spenta amicizia cioè relazione che diventa amicizia se vabbè causa esoterica se c'è degli episodi di razzismo subiti collegamento all'entità mentale collettiva razzismo si 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 non è anche la basso rete di ad eternum intorno all'entità mentale razzismo sì sì quello che vedo che mi viene che mi è venuto così è che le persone che sono collegate all'entità mentale razzismo c'è quelli che fanno del razzismo vivono proprio male perché con questa entità mentale hanno paura di tutto tutti solitamente senza fare del qualunquismo sono persone che non hanno mai viaggiato e non fattura che non conoscono che hanno paura della diversità diversità che poi no beh dell'opportunità della diversità nel cibo e i costumi degli abiti degli usi penso per le donne dei trucco dei gioielli è una grande opportunità l'opportunità di non so ho detta degli orecchini gli orecchini che si usano in africa gli orecchini che si usano in italia gli orecchini che si usano in turchia mischiali tutti e tieni degli orecchini nuovi che nessuno per dire cioè sei diverso diversa da tutti e tutti ti faranno i complimenti per i tuoi veri orecchini che hanno qualcosa di africano qualcosa di italiano e qualcosa di turco tre culture diverse che si fondono e che hanno una quasi magia dentro invece no cancelli porte portoni tuttuli io qui che la mente no creazione no ps no no alta frequenza no di divertimento no gioco siamo qui per giocare giochiamo no ok perché la sua parte subliminale decide di fare questa esperienza triplice di affidamento al di là dei motivi contingenti insomma di fatto lei si ritrova no a casa di altri e poi non viene lasciata lì di fatto allora faccio fa un po a parte il fatto di nascere famiglia molto numerose fa un po parte del pacchetto che la ps sceglie quando decide di nascere luogo lì perché lei tra tutti quello che posso vedere che è come se fosse fare la doppia allora da una parte le ps da sua ps insieme a quelle dei suoi genitori sapevano che lei sarebbe stata in grado di cavarsi la ok e dall'altra vedo un altro aspetto che è quello che lei doveva scegliere diciamo che lei ha scelto di sperimentare l'anaffettività dei genitori quindi per queste due cose lei è stata affidata esiste quanti quanti anni maggiomelle esistono di ho detto 8 esiste la fiamma chiama esiste ed è vicino tra al confine tra lombardia e emilia romagna con gli italiani si uomo proprio italiano si è sempre stato lui in tutta la vita di ho detto perché sembra che questo francese prima lei non l'ha conosciuto no ok lo ripetiamo solo però detto perché gli altri lo sapranno già le fiamme possono cambiare se la conoscenza l'incontro non avviene li possono modificarsi le condizioni per esempio in questo caso ecco la francia non è che aveva avuto molto a che fare quindi non c'erano le condizioni le ha scelto l'italia lei è andata verso l'italia a un certo punto e quindi evidentemente con il suo desiderio intento di questa cosa la con perché se non c'è non cambia la cosa resta francese c'è sta lontana non si si è avvicinata l'opportunità le condizioni della cambia ma non perché quell'anima del francese se ne va in ma perché il gioco non è una linea temporale un universo un mondo sono infiniti o tantissimi che si intersecano che si cambiano che si scambiano se vuoi una delle cose che possa aiutare a capire questa cosa l'effetto mandela per alcuni nel suo mandela era morto da anni per altri era in carcere e quando è saltata fuori la notizia che era stato scarcerato dopo vent'anni non sono roba del genere molti dicevano come non è morto ma molti molti ma convinti ricordandosi il servizio della televisione pubblica italiana in televisione dell'esequie del funerale dei personaggi che avevano partecipato a questo funeraggio questo va l'effetto mandela chiamiamolo è inutile stare a pensare a quante entità mentali collettive di difficoltà sentimentali o quanto è bello abbracciare tappa capa che molesta le bambine non ci frega niente parliamo della fiamma di odette chiamiamola a più o meno consapevolezza di odette un po meno però un po c'è da chiamiamolo qui viene se si è il cinema è sempre bello che apre una fiamma nel cinema non c'è d'accordo velena se si come lo vedi lo allora ha più o meno due o tre anni meno di lei così a vedere la cosa che ve lo vedo molto sorridente molto allegro molto espansivo è come se lui avesse la percezione che la sua donna ideale è di colore e ci rivolcato no non penso lo vedo abbastanza rivoluzionario c'è molto diverso dalla gloria e conosce l'africa o anche come si è come se fosse avesse avesse visto che c'è proprio questa una sua parte che è legata a quell'aspetto e adesso inizia a capire che probabile c'è ha riuscito a vedere che il suo essere tirato verso quell'aspetto è che la sua donna ideale viene dall'africa ok lo lasciamo qua nel cinema questa cosa qua nello specchio e dimmi solo se si sono già visti quello che vedo io è che come se si fossero incontrati tipo una fiera o una grossa festa a io intendevo in altre vite dove ci dice che sono già visti ma visti visti o erano nella fiera essere una sera tipo sono hanno camminato c'è così no si sono incrociati così e basta in altre vite hanno una vita lui e al papà e lei la figlia in un'altra vita al papà e lei il figlio poi lei la mamma e lui il figlio della mamma della figlia quattro vite e in un'altra erano fratelli due maschi come coppia quindi mai no lasciamolo nel cinema possiamo fare altro insomma si svolgeranno delle svolgimenti solo se odette lo vorrà o metterà i presupposti affinché le otto anime gemelle sono dove le più vicine cioè qualcuno di quelli che ha incontrato in cina no nell'attuale né quell'altro più vicine in inghilterra chiama elena un archetipo l'archetipo dell'africa in realtà è come se fosse diviso c'è come se fossero tre insieme perché vedo proprio una diversità a zone quella del nord centro e un pezzettino in fondo il fondo è proprio piccolo ma ecco chiamiamo quella del centro se vogliamo l'africa nera permettetemi l'espressione sì che in realtà questa ho visto che hanno tre colori diversi il nero invece al nord dell'africa li vedo un verdino giallo e sotto tipo rosa c'è chiama la verde ok come vedi un archetipo per essere letto dal cervello umano come si presenta un archetipo dell'africa è come se fosse un enorme gommone però dentro riempito da una parte più rigida e il sotto del comune diciamo la parte che è uscita con l'aria è fatta vabbè in questo caso dell'africa e del colore verde giallo e vedo la caratteristica è proprio questa come se fosse fatta tutta la superficie di at della della chioma degli alberi ok e se tu ti avvicini fai un vicino ti avvicini alle chiome sulle chiome leggi le caratteristiche di questa zona di quell'archetipo ma non vuole assumere una forma specifica allora se assume una forma specifica diventa una un enorme ballata con in mezzo fiume grossi molto largo enorme diciamo che sta a indicare proprio la la parte più il contatto più diretto e selvaggio con la natura rispetto a tutto il resto del mondo la caratteristica principale è questa creiamo un grande uomo energia grande come questo archetipo e andiamo di abbraccio trasferimento di questa energia ad altissimissima frequenza a tutta l'archetipo africa tutta l'africa sì 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 allora che prima c'è la divisione in tre come se ci fossero dei bordi tra le tre parti no e adesso avere tutto omogenizzato tutto omogeneo con la vibrazione dell'uomo energia e quindi è come se venissero estrappolate le tre caratteristiche negative delle tre parti e quindi diventa tutta una base più neutra ok va bene il figlio che ha avuto dei problemi di notte e lì nel cinema cosa sta facendo allora continua a continua a crearsi ad eterno e di come se l'ingogliasse di manda imposti specifici del corpo tantissimi nella testa continua a equilibrare le vibrazioni con questi ad eterno nel cinema c'è una porticina la gym infinitum facciamo andare chi vuole anche a vedersi questa sezione del cinema anche ho detto dove qui si spiega come si creano gli ad eterno come si crea un'eterna frequenza si prende si assume la pillola vick vibrazione informazione consapevolezza la nuova cdf coraggio decisione forza e si impara a creare c'è un palloncino sgonfio lì ovviamente si semprendono informazioni no poi si crea proprio palloncino sgonfio si gonfia e si forma il proprio personale uomo energia ci va il figlio la figlia tutte e due ci vanno li vedo molto in eterico li vedo molto affiatati c'è si confrontano molto tra di loro quindi vanno assieme anche lì ci va la fiamma sì 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 i due ex chiamiamo ex anche questo che non so bene come chiamarlo ci va no cosa che tu non mi vedi ho detto che sto alzando le spalle e vedete non mi vede mi vedrà della registrazione si ci va se ci vanno tutti ci sarà qualcosa di interessante quindi va anche lui no i genitori no no come se fossero proprio tutti anche i fratelli che quel che vivono ancora l'acqua quelli che io non è come se fossero agganciati a alla terra sono bloccati di in quelle energie no 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 non hanno neanche l'iniziativa di provare a muoversi ecco quelli che vedo li bloccati sono qual è la incarnazione di odette in cui in termini umani di succede tutto quello che lei non ha avuto in questa vita quindi successo economico successo amoroso c'è una vita in cui lei è stata al top sì l'estate alla allora l'avete in questa enorme casa ai tempi della prussia ed era se lei era la padrona di queste enorme casa e la faceva parte di una derivate derivato da una famiglia si diceva familiare si è quindi era anche molto nera di quelle quelle donne che perché erano ricche quindi poi c'è non c'era lei non la sentiva la separazione tra ricchi e poveri che era molto umana molto generosa a livello umano e ha vissuto una vita molto serena molto serena ha creato la sua famiglia molto in maniera molto serena l'ha fatta con un uomo normale quindi che non arrivava dalla dall'alta borghesia quindi era proprio amore un anima gemella la fiamma no no ha fatti un'anima gemella si sia bella che è quello che sono anche no 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 era un anima gemella perché erano proprio molto molto affiatati hanno vissuto molto bene c'è anche in questa vita una lontana va bene è giunto il momento di però detto di cambiare tutto se le vuole certo che vuole andiamo al cluster mi prende per mano e mi porta al cluster ok sa già fare tante cose già abbastanza si è terminata se con questa esperienza che le ha di cambiare le piee riesce diciamo in eterico utilizzare molto suo campo energetico quindi è come se lei sa sa farle cose ma non è a volte non è cosciente perché c'è un'entità mentali che era che come se gli cancellassero il ricordo c'è la consapevolezza di quello che sa fare ecco a livello energetico adesso lavoriamo su queste 10 p e perché sì ma anche boh francamente secondo me poi si può creare si può creare si possono unire in un'unica ps infatti che i cambi le danno i problemi di respirazione al petto i cambi secondo me che tipicamente sono collegati alle isole sì e poi esatto la stessa cosa che vedo io è spezzettata ma deve essere continuata da una parte all'altra comodiva di contratti ti braccialetti che sono se vuoi anche delle manette ai braccialetti anche effetti essi certo simbolicamente regalare un braccialetto peggio due braccialetti è una forma di legamento magia basica no base 0 proprio per legare una persona per incatenarla per c'è nel manette come sono fatti tante perline di legno ok cosa ne vuole fare sapendo portare definitivo e li ha buttati tutti dentro adesso ha chiuso fatto una d'eterno allora l'ha fatto l'ha creato con tutte e due le mani come se fosse un infinito ma pieno quindi come se fossero uno le due parti dell'infinito uniti ma pieni ma ecco già fatto un po più esatto perché boh perché ha fatto così è un po questa cosa che ha lei è come se fosse abituata ad usare la sua energia a per comparti questa cosa della p e come se si fosse allenata no a fare ecco per unita ma comparti andiamo all'avatar vediamo chi c'è mi fa morire perché vede sempre più pessima lestia avatar allora praticamente è estremato tra che la psd o dette è molto attiva e molto c'è un aumento la sua consapevolezza molto velocemente quindi se era sempre da farato no questo avatar tra che adesso c'è l'uomo energia che la che l'ha trattenuto è sfinito e ce lo vedo sulla sedia così così moribondo via tutto ma per portare desiderarmi come al solito che arriva l'eco se io non lo sento la mia è da me credibile appena faccio tutta la cosa la sera se ne va non ci segue da poco pensa che ci inventiamo tutto ma in realtà se te lo vivi dentro come facciamo tu ed io e ed altri tuoi colleghi non ci stupiamo noi ci stupiamo più di niente ma successe anche cose ben peggiori ok si è creata al suo uomo energia ho detto ok ma allora siccome siamo dei creatori e siccome ci facciamo noi l'anno il nostro trasumanesimo ma energetico lei adesso lo clona ne fa una copia la copia la manda a mister tappa tappa capa che è l'entità eterica del secondo universo e quindi un bel demoncino africano che porta gli omini a per gli uomini maschi a perdere la testa e a fare le cazzate né questo uomo energia si moltiplicherà per tutti tutte le entità che sono nella testa di chi ha deciso di fare questa cazzo di esperienza ho detto cazzo accidenti cazzo non si possono dire parola c'è lena basta dire parolacce non puoi dire parolacce che poi tu non dici parolacce dotato se così dolce stavo ripeto ok come lo vedi l'abbraccio la parte che va beh quello di ho detto non esiste più quindi andiamo alla ricerca di tutti quelli che sono nelle isole di capoverde di tappa capa mi viene mai questo nome sono tutti i soggetti ad abbraccio adesso in questo istante si avrete anche qualcosa proprio a livello non solo eterico ma anche fisico perché come vedo che è come se ci fosse come se loro usassero una specie di totem che è legato a lui come questo totem e sono sparsi per tutte le capo verde uomo abbraccio e abbraccio in tutto i top tutti i totem si abbraccio che poi se vuoi questa roba è anche la base del di essa seppelli è certo se li seppelli si rivela cambia la stessa storia la modalità ma state quindi non è che stiamo lì a tanto fare cose diverse la scitta e soli almeno una delle principali si dire che in questo momento storico in questa linea temporale di questo momento è quella la cosa fatto sì sì ok questo vale per tutti tutte le entità simili in tutto il mondo di tutte le persone con tutti i totem con tutto quello che vi pare in eterico e ai totemi fisici o agli idoli o alle statuine o ai fetici o ai bronzetti o come vi pare non è interferenza sono abbracci sono molte frequenze con questa nuova condizione ho detta ancora il felinoide leno leonide il falconiforme legato dino tappa capa i 3 dl entità mentale 4 e 3 un progetto di abduction un progetto di interferenza no che basta ok ha ancora 10 p e come se lei si fosse accorta che consapevole come se avesse sentito proprio a livello energetico che erano tutte separate e quindi come se le avesse saldate assieme adesso no e quindi le fuse la saldate assieme e questa rete di ognuna che prima era molto sottile adesso diventata spessa è diventata una pia unica si sono unificate quindi sì sì nuova frequenza 258 miliardi nuova consapevolezza 196 psp 69 31 dite precedenti 976 percentuale di cervello utilizzata 10.8 molto alto messaggio finale dio detta se stessa allora quella cosa che tu hai in mente da tantissimo tempo come diciamo tu che ti che ti arriva in mente spesso di fare quello può essere proprio l'inizio del tuo percorso mi viene di vita lavoro anche lavorativo non lo so mi arriva questa cosa io non ho ben chiaro vedo solo che è una cosa molto creativa e che lei c'è la mente da tempo che ogni tanto di arriva se lei inizia a seguire quella linea può essere veramente una cosa per lei a livello lavorativo molto soddisfacente e a livello energetico molto centrata per la verso se stessa un'altra cosa che mi fa vedere che io adesso la vedo che lei è come se si fosse sbloccato qualcosa a livello energetico no come prima se capacità c'erano erano come chiuse appunto da quest'entità queste interferenze e adesso è come se fosse tutto sbloccato e lei la vedo che riesce a sentire l'energia vedere il campo pian piano con l'allenamento sicuramente riuscirà facilmente può iniziare dal bosco vedo proprio come quasi se avesse degli occhiali infrarossi che le fanno vedere l'energia ecco il campo proprio quantico ok la pie che che aspetto adesso visto che una si è sempre quella rete che che la avvolge tutta mai più spessa e più luminosa quindi è proprio come se l'energia adesso fosse sempre atti prima era divisa in 10 quindi era un po fievolita no quasi spenta nel senso che si attivava un po ogni volta che veniva inter scambiata adesso la vedo molto più spessa e attiva quindi come se fosse una luce led a forma di rete che la che l'avvolge tutta ok messaggio di odette a se stessa l'abbiamo visto no messaggio di odette alla fiamma lavorerà sulla mia centratura e la mia comunicazione con la ps con anche l'intento di arrivare a te quindi seguirò il flusso di me stessa verso di te con queste nuove condizioni come a ora può essere ora la vita di odette allora la vedo molto indipendente la vedo molto che non si fa condizionare dall'esterno e la vedo che è proprio pronta e a concentrarsi sulla sua centratura la sua comunicazione con ps e per creare quello che la fa stare bene allora fino adesso lei lo voleva fare e l'ha fatto in gran parte e vedeva appunto i suoi blocchi no quindi proprio lei adesso è consapevole che quei blocchi lì non ce li ha più ed è consapevole che può creare tutto ciò che vuole ottimo va bene vedi qualcosa da aggiungere i corpi emozionali sono ancora 10 no 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 ok lei si può abbracciare il suo uomo energia ed è un po facendo così come se mettessimo una d'eterno nel suo corpo fisico emozionale mentale eterico e subliminale se lo può rifare ogni volta che lo decide lo desidera perché lo sa fa creare ora che lo può visualizzare ora che l'ha visto in eterico con noi e in eterico da sola va bene va bene possiamo tornare sì